secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie porcarlo è stata l'impresa quindi vedi sono tutte cosine insomma però anche il vestito volevo che si ispirasse un attimino a pt volevo anche magari infilarci dentro qualche citazione in più ma non ho trovato dove volevo quindi l'ho messo nelle storie una volta e basta però volevo che rimandasse un attimino al pt anche il primo ho preso la sidra entrambi entrambi sì perché ho approfittato mi era comparsa la pubblicità che c'era lo scontro ho detto ok dai con quel trucco neri gialla che strano hai visto telefono del 1999 ma che cazzo vuoi ma che volete davvero dopo un po' di eternità si elimina però per un anno al massimo ah merda e quindi anche solamente entrarci è tipo hey ce l'ho ancora caldaia thank you però oggi non giochiamo ah ho capito cazzo ok allora ci entro e faccio più seconda e sei rimasto qua mi prendi la coca ah guarda dai mi prendi la coca dai lasciami parla mi prendi la coca dai mi prendi la coca dai mi prendi la coca dai per favore mi prendi la coca mi prendi la coca mi prendi la coca avevi promesso che lo diciamo? cosa? aveva promesso che dopo la live evento del funerale cosa? non avrebbe più bevuto coca zero è successo? no non è successo bugiarda debole schifosa tossica dipendente poi? si bugiarda bugiarda tossica sei tossica ometto è diverso no no tu hai detto ti prometto che dopo la live evento perché mi serve per lavorare e concentrarmi ti prometto che già che tu mi credeva sta stronzata comunque però ti prometto che festa è stata per esempio è la vostra cosa? guarda madonna eh? no no guarda che questo è un canale family friendly eh ma va a cagare va cioè stiamo parlando di se ti ecciti con un cazzo in chat canale family friendly hai visto la foto di Eren? questo sì ma non è un paragone ma sì ma stagione mi dà fastidio per come l'hanno divisa in 250.000 parti nel film in quell'altro non esiste non esiste e quindi io non sto vedendo più niente per quanto riguarda anime io tanto ho letto il manga e finito il manga x anni fa quando è uscito ormai stiamo parlando di quanti anni fa ormai? tre? forse tre anni fa è finito e quindi onestamente non mi rega un cazzo io non ho visto ho visto metà della quarta stagione poi nel momento in cui hanno iniziato a dividere tutto quanto non ho visto un cazzo e penso di non recuperarmi niente finché non è tutto finito perché non esiste che è una sola parola soldi hanno fatto stronzate su stronzate ma Reis ma che senso ha? cioè io non riesco a capire neanche dal punto di vista di marketing non ha proprio senso perché secondo me vogliono replicare un po' quello che hanno fatto con The Mose Lair che il film ha fatto il botto però un conto che mi fa in un film e mi mette il finale ma un conto che mi dividi una stagione in quattro parti con tanto di due figli cioè non esiste ma non esiste ci siamo pure fidanzati grazie al gruppo ma Reis chi si è messo con chi? allora Strachino mi stava dicendo un po' di robe mi ricordo l'ultima volta che l'ho visto mi ricordo due cose e basta io se fin lì cercavo di trovarci un senso io ho visto sta scena io sono scoppiata a ridere ma perché? perché stavano succedendo cose sempre più assurde io cercavo di trattenermi cercavo di essere hipster come gli altri cercavo di essere sì perché io capisco l'arte ci stavo provando un sacco come quando al ristorante Michelin cercavo di essere signorina io ci stavo ci stavo provando un sacco ma succedevano sempre cose più assurde quindi volevo un sacco ridere volevo un sacco ridere Riley se stai leggendo questo messaggio significa che non mi vedrai più no se no oh è un gioco serio vai vai se non nella prossima vita no quindi è morta è morta avrei voluto dirti tutto che sorpresa non avrei mai detto che cosa vorresti dirmi tu tutto prima di morire che cosa mi diresti prima di crepare che sarò triste per un po' e poi andrò avanti a posto non so quanto tempo mi resta ho ancora così tanto da fare prima di andare una persona della videocamera una persona che doveva mettere gli alert di base scusatemi fanculo e erano in tre in quattro infatti ha staccato Edo ha staccato Edo che anche lui era lì ma perché poi mi hanno detto che in realtà stavano a fare tutti i video pure no ha staccato Edo che ad un certo punto stacco oh stacca 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 e ha staccato lui e quanti manager starevano per staccare una cam vabbè però vediamo se viene non è detto non è detto eccolo eccolo ti ricordi ti ricordi quello che facciamo qua ti ricordi vieni qua vieni qua vieni 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 qua la barra non era da fare in e turn it ragazzi a proposito la barra per ora vado ad entrare oggi perché poi ciao che cazzo è giorno libero e invece è entrato guarda che begli occhi oh no non stai in bagno tu siete solo scopamici ma neanche ci guardiamo nudi ci fissiamo e basta come che scrivi sarebbe un po' weird sarebbe un sacco strano ogni volta che mi vede con il cazzo moscio fa pipo e si mette e si mette a ridere boh mi fanno ridere i cazzi e non è che cioè tu guardi scappi via ridi torni lo riguardi fai di nuovo pipo e scappi via ridendo di nuovo cioè due volte sempre mai una e basta due raga quindi ma fa veramente paura che poi mi ha cambiato anche la felpa non so perché stavo cercando di notare anche sul retro che cosa mi ha messo mi ha tolto tutti i manga sembra un rapper dei primi anni 2000 sì un pochino però è figo c'è qualcosa di ha un qualcosa oh scusatemi mi ero dimenticata assurdo che hai chiesto aiuto ma infatti strano ma perché ti dico è stata una situazione in cui è stato Stefano è stato veramente Stefano che mi ha sbloccato perché nel momento in cui ho detto voglio una vara lui si è tipo autoproposto cioè è stata una cosa da facciamola insieme la facciamo non ho dovuto neanche chiedergli l'ho capito che intendo e invece lato tecnico raga non ci capisco veramente niente quindi non aveva mai avuto la presunzione di dire faccio io e tutto no dove è coca dammi 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 lancia dai dammi dai dammi non mi vuole dare il cazzo dammela dai dai dammi allora mi serve che il vestito sia sporco di terra perché ero sotto terra quindi devo far sembrare che sia sporco di terra non di sangue no e qual è il problema che grazie buon essere buon essere intanto scusatemi se non riesco a leggervi che siete velocissimi e il mio ragionamento è stato boh mi serve la terra dove vado a trovare la terra per strada perfetto per strada pioveva un sacco mi sono detto vado in aracani e lo spalmo un po' per terra quindi questo è molto pisciato e raga là dentro si suda di merda ok di dentro stare 15 minuti di dentro quanto mi mancano le scopate strane con Mario se solo fosse ricco se solo avesse il playstation plus quello annuale da 100 euro non piangere dai lo so se solo che altro ti ho fatto vedere non mi ricordo più vorrei fargli vedere Naruto adesso vedrete ma guarda fargli vedere Hunter Hunter però voglio fargli vedere Naruto